Il capannone di una ditta ha trasformato in un magazzino di auto rubate. I militari dell'arma hanno arrestato per riciclaggio e ricettazione un operaio di 52 anni di Cintano. Denunciata per il medesimo reato, la sorella di 50 anni, imprenditrice e residente a Castellamonte. In particolare, i carabinieri della stazione Strambino e del nucleo radiomobile della compagnia di Ivrea, a seguito di una verifica effettuata all'interno del capannone, hanno ritracciato un'autovettura rubata già parzialmente smontata e coperta sotto un telo. Una successiva perquisizione ha permesso di rinvenire e sequestrare decine di carcasse di auto, oltre a cerchioni, motori, parti di veicoli, utensili vari e anche un rilevatore di frequenza. Sono state inoltre sequestrate targhe riconducibili ad almeno altre 10 auto rubate in provincia di Torino. Autore dei sottotitoli e revisione a cura di QTSS